Che cos'è Villa Certosa? No, a dire la verità non ho mai sentito di questo progetto. È un posto dove fanno i formaggi buoni. È un ballo americano. È la villa che c'è in centro a Milano di Berlusconi. Via Certosa sì, ma villa non mi dice niente. La villa di Berlusconi in Sardegna, penso. È una villa di vulcani e di pavoni. Via Certosa è una località balneare della Toscana. È una villa dove ci sono le montagne russe, un tronco, un gioco acquatico, un calcio in culo e un parco divertimento.